sono le 5 e l'ora del tè e del mio momento di pausa ma anche il vostro prendiamoci un momento di pausa la vita corre noi corriamo siamo sempre sotto stress quindi tre minuti per stare tranquille bevendo un buon tè e siccome quando stiamo tranquille io vi racconto o parlo sempre di cose interessanti che leggo anche oggi ho una chicca per voi insomma l'amante ideale qual è pare che l'uomo ideale sia quello con la divisa subiamo il fascino della divisa e già il fascino della divisa colpisce ancora anzi ha spodestato il sex appeal uomo d'affari manager d'affari che pareva fosse sulla cima delle classifiche con il suo smartphone la camicia con il colletto insomma col collettone i polsini namidati e quello non è più il sex symbol noi siamo tornate all'ufficiale gentiluomo anzi io veramente a ricerchire sono sempre rimasta non è divisa o senza divisa mi piace anche adesso che è passato un po di tempo quindi pare le statistiche dicono che noi donne continuiamo a subire questo fascino la divisa insomma ci ci dà quel senso insomma ci insomma ci piacciono questi uomini con la divisa pare che sia così ma allora oggi mi domando perché ogni tanto tra di noi parliamo di fascino di quello che subiamo noi donne e che cosa ci piace in un uomo e siccome mi verso un tè e qui ho dei buonissimi savoiardi che però ho preparato senza glutine per chi soffre di celiachia e la ricetta la trovate qua sotto quello che voglio chiedere a voi è questo ma fascino della divisa che vuol dire la divisa del marine piuttosto che del paracadutista piuttosto che del poliziotto del carabiniere del medico oppure una divisa qualunque che può essere anche quella blu della fabbrica noi subiamo veramente noi donne il fascino della divisa oppure una di quelle dicerie che ci affibbiano sempre tanto ce ne dicono tante me lo scrivete qua sotto qua trovate la ricetta del savoiardo e ricordatevi senza glutine che mi mangio e nel frattempo voglio sapere da voi ma è proprio vero ci piace ancora l'ufficiale gentiluomo oppure il dentista quando lo guardiamo negli occhi quindi ci trappano un dente a me non piace il dentista proprio per niente anche se ha gli occhi duri grazie a tutti